non era il direttore artistico quattro sere fa? non era il direttore artistico quattro sere fa? ogni sera prepara la cena per la sua famiglia. ogni sera prepara la cena per la sua famiglia. immaturo. immaturo. sua suocera era un'infermiera? sua suocera era un'infermiera? fammi sapere se vuoi fare una passeggiata? fammi sapere se vuoi fare una passeggiata? non diventeremo presto agenti di cambio? non diventeremo presto agenti di cambio? posso parlare per l'adeguamento della formazione? posso parlare per l'adeguamento della formazione? mangi la mela. mangi la mela. non assicura ogni settimana? non assicura ogni settimana? devono essere stati giocatori di golf prima. devono essere stati giocatori di golf prima. ci è piaciuta questa canzone? ci è piaciuta questa canzone? il nostro fratellastro era il barista. il nostro fratellastro era il barista. i miei cugini sono lottatori? i miei cugini sono lottatori? sua suocera è una giornalista? sua suocera è una giornalista? suo cognato era uno stilista? suo cognato era uno stilista? siamo riusciti a diventare governatore quattro secoli fa? siamo riusciti a diventare governatore quattro secoli fa? ha riportato il nostro latte di tre settimane fa? ha riportato il nostro latte di tre settimane fa? se c'è la possibilità che nevichi? non uscirò? se c'è la possibilità che nevichi? non uscirò? non ha dato preavviso di tanto in tanto? non ha dato preavviso di tanto in tanto? i suoi fratelli sono infermieri? i suoi fratelli sono infermieri? questa è davvero una bella macchina. questa è davvero una bella macchina. mi dispiace. tutte le nostre stanze si affacciano sul parcheggio. mi dispiace. tutte le nostre stanze si affacciano sul parcheggio. era un cacciatore a mezzogiorno. era un cacciatore a mezzogiorno. dovresti provare per due settimane. dovresti provare per due settimane. nostro nonno era proprietario di una casa. nostro nonno era proprietario di una casa. suo cognato è un operaio. suo cognato è un operaio. abbiamo guardato una partita di calcio in tv. abbiamo guardato una partita di calcio in tv. non possono andare nell'esercito dopo tre settimane? non possono andare nell'esercito dopo tre settimane? ci sono poche uve. ci sono poche uve. può piovere? può piovere? posso dirti qualcosa? posso dirti qualcosa? ci scusiamo per la ricerca. ci scusiamo per la ricerca. ascolta musica mentre studia. ascolta musica mentre studia. volo per new york il prossimo fine settimana. volo per new york il prossimo fine settimana. partiranno per le vacanze la prossima settimana. partiranno per le vacanze la prossima settimana. tua nonna era una scultrice. tua nonna era una scultrice. dovrei avere freddo dopo un secondo. dovrei avere freddo dopo un secondo. suo zio era un pastore? suo zio era un pastore? legge il giornale tutti i giorni. legge il giornale tutti i giorni. vorrei un caffè. per favore. vorrei un caffè. per favore. hai una grande famiglia? hai una grande famiglia? suo fratello è un giornalista sportivo. suo fratello è un giornalista sportivo. uno i suoi occhi sono marroni. uno i suoi occhi sono marroni. la sua matrigna è una commerciante? la sua matrigna è una commerciante? cucinerò la cena stasera. cucinerò la cena stasera. sono contento che tu ti senta meglio. sono contento che tu ti senta meglio. canterà nel coro la prossima settimana. canterà nel coro la prossima settimana. potrebbe non negarlo ogni settimana. potrebbe non negarlo ogni settimana. separare. separare. sta procedendo bene. sta procedendo bene. fallirà dopo un giorno? Fallirà dopo un giorno? Non possiamo essere redattori al crepuscolo. Non possiamo essere redattori al crepuscolo. Farò i compiti stasera. Farò i compiti stasera. Lo causerò in tre secondi. Lo causerò in tre secondi. Ascolterà? Ascolterà? Accettiamo subito. Accettiamo subito. Potrebbe essere questo lo sviluppo che stavamo aspettando? Potrebbe essere questo lo sviluppo che stavamo aspettando? Potremmo non cambiare settimanalmente. Potremmo non cambiare settimanalmente. Questa è assolutamente una sciocchezza. Questa è assolutamente una sciocchezza. Non mi hai detto niente di te. Non mi hai detto niente di te. Non noto nulla di insolito. Non noto nulla di insolito. Stavamo giocando a tennis sul campo. Stavamo giocando a tennis sul campo. Vorrei che lo facesse. Vorrei che lo facesse. Dobbiamo andare da qualche parte. Dobbiamo andare da qualche parte. Non mi interessa se hai 35 anni. Non mi interessa se hai 35 anni. La domenica giochiamo a giochi da tavolo con i nostri amici. La domenica giochiamo a giochi da tavolo con i nostri amici. Non sono stati invitati. Non sono stati invitati. Questa è una specie di mela. Questa è una specie di mela. Sono tornato per te ma te ne sei andato. Sono tornato per te ma te ne sei andato. I loro cugini sono operai. I loro cugini sono operai. Chiuderà? Chiuderà? Deve essere sfidato. Deve essere sfidato. Fammi pagare la cena di stasera. Fammi pagare la cena di stasera. Correttamente. Correttamente. Dovrebbero diventare presto amministratori. Dovrebbero diventare presto amministratori. Sarà d'accordo ogni settimana. Sarà d'accordo ogni settimana. Di solito non posso fare il caposquadra. Di solito non posso fare il caposquadra. Possono chiuderla a mezzogiorno. Possono chiuderla a mezzogiorno. Dovremmo prendere. Dovremmo prendere. Posso avere effetto dopo una settimana? Posso avere effetto dopo una settimana? Sono un drammaturgo mensile. Sono un drammaturgo mensile. Tutti erano entusiasti per il concerto. Tutti erano entusiasti per il concerto. La legge è chiara. La legge è chiara. Se è possibile. Se è possibile. Cinque anni dopo non dovrebbero essere preferiti. Cinque anni dopo non dovrebbero essere preferiti. Ormone. Ormone. Ero giovane una volta. Ero giovane una volta. Attualmente sto studiando inglese. Attualmente sto studiando inglese. I vicini sono insegnanti. I vicini sono insegnanti. Finivamo spesso. Finivamo spesso. Tuo cognato era un ballerino. Tuo cognato era un ballerino. I tuoi parenti erano investitori. I tuoi parenti erano investitori. La mia prima esperienza di paracadutismo è stata incredibile. La mia prima esperienza di paracadutismo è stata incredibile. Non sono a parte. Non sono a parte. A mezzogiorno saremo guerrieri. A mezzogiorno saremo guerrieri. Hai gli occhiali da sole? Hai gli occhiali da sole? Più tardi andrò al negozio. Più tardi andrò al negozio. Può stabilirsi di tanto in tanto? Può stabilirsi di tanto in tanto? Potresti non supportare. Potresti non supportare. Mio cognato era un infermiere? Mio cognato era un infermiere? Abbiamo nuotato subito? Abbiamo nuotato subito? Voglio comprare una nuova casa. Voglio comprare una nuova casa. Possa la fortuna essere dalla nostra parte. Possa la fortuna essere dalla nostra parte. Ora puoi diventare un ispettore. Ora puoi diventare un ispettore. Puoi mostrarmi dov'è il corpo studentesco? Puoi mostrarmi dov'è il corpo studentesco? Tuo nipote è un architetto paesaggista? Tuo nipote è un architetto paesaggista? Posso vedere il passaporto e la carta d'imbarco? Per favore? Posso vedere il passaporto e la carta d'imbarco? Per favore? Lavora da dieci anni. Lavora da dieci anni. Ho cucinato la cena per la mia famiglia. Ho cucinato la cena per la mia famiglia. Abbiamo stilista subito? Abbiamo stilista subito? Il tuo fratellastro è il decoratore. Il tuo fratellastro è il decoratore. Puoi creare all'alba. Puoi creare all'alba. Aveva vissuto in quella casa per dieci anni prima di decidere di trasferirsi. Aveva vissuto in quella casa per dieci anni prima di decidere di trasferirsi. Subito. Subito. Allora è ironico. Allora è ironico. Il mese prossimo andremo in vacanza alle Hawaii. Il mese prossimo andremo in vacanza alle Hawaii. Rispondono alla nostra richiesta di una stanza tranquilla? Rispondono alla nostra richiesta di una stanza tranquilla? Quante sorelle e quanti fratelli hai? Quante sorelle e quanti fratelli hai? Eravamo a mezzogiorno? Eravamo a mezzogiorno? Non dovrebbe dedicarsi alla pesca occasionale. Non dovrebbe dedicarsi alla pesca occasionale. Dovrebbe venire mensilmente? Dovrebbe venire mensilmente? Non ero trattenuto? Non ero trattenuto? Non ce la fai dopo un anno? Non ce la fai dopo un anno? Questo posto è così luminoso. Questo posto è così luminoso. Hanno visitato l'Australia due volte. Hanno visitato l'Australia due volte. Non dovrebbero essere scelti? Non dovrebbero essere scelti? Pianificherà per un mese in anticipo. Pianificherà per un mese in anticipo. Sono nella doccia. Sono nella doccia. I miei parenti lo fanno. I miei parenti lo fanno. Questa è la cosa giusta da fare. Questa è la cosa giusta da fare. Uno bambino ha meno di cinque anni. Uno bambino ha meno di cinque anni. Non possono sperimentare dopo un secondo. Non possono sperimentare dopo un secondo. È stato multato per aver parcheggiato in divieto di sosta. È stato multato per aver parcheggiato in divieto di sosta. Lo bevo sempre quando si tratta di casa mia. Lo bevo sempre quando si tratta di casa mia. Stamattina ho quasi perso l'autobus. Stamattina ho quasi perso l'autobus. Saremo sposati per cinque anni il mese prossimo. Saremo sposati per cinque anni il mese prossimo. Ti bacerò se prometti di essere un bravo ragazzo. Ti bacerò se prometti di essere un bravo ragazzo. Non possiamo partire prima. Non possiamo partire prima. Non credo che aiuti nessuno. Non credo che aiuti nessuno. Ho molti valori. Ho molti valori. Non dovrebbero vivere entro mezzogiorno? Non dovrebbero vivere entro mezzogiorno? Può essere pubblicato dopo quattro settimane. Può essere pubblicato dopo quattro settimane. Suo zio era un controllore? Suo zio era un controllore? Non l'ho ripetuto all'alba. Non l'ho ripetuto all'alba. Fanno esercizio. Fanno esercizio. Andavo a scuola in bicicletta. Andavo a scuola in bicicletta. Dovresti controllare la salute della tua famiglia. Dovresti controllare la salute della tua famiglia. I lavoratori ed i li costruiranno un nuovo grattacielo. I lavoratori ed i li costruiranno un nuovo grattacielo. Inizierò un nuovo hobby il mese prossimo. Inizierò un nuovo hobby il mese prossimo. Dove hai camminato? Dove hai camminato? No. Scusa. Non capisco. No. Scusa. Non capisco. Acquistato ogni settimana. Acquistato ogni settimana. È uno chef di talento e prepara piatti deliziosi. È uno chef di talento e prepara piatti deliziosi. Dovremmo classificarci. Dovremmo classificarci. Vado nella parte sud della città. Vado nella parte sud della città. È divertente. È divertente. Non caricheremmo al tramonto. Non caricheremmo al tramonto. Non ho bruciato a mezzogiorno. Non ho bruciato a mezzogiorno. Dobbiamo scrivere un diario? Dobbiamo scrivere un diario? Quindi le tre del mattino non condividerebbero. Quindi le tre del mattino non condividerebbero. Dov'è il centro del mondo? Dov'è il centro del mondo? Dovresti farlo dopo. Dovresti farlo dopo. Sono il locandiere all'alba. Sono il locandiere all'alba. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Tuttavia. Ci sono alcune incertezze che dobbiamo affrontare. Tuttavia. Ci sono alcune incertezze che dobbiamo affrontare. Devo scendere a terra dopo tre anni? Devo scendere a terra dopo tre anni? Non dormirà? Non dormirà? Ora è un adulto e può prendere le sue decisioni. Ora è un adulto e può prendere le sue decisioni. Puoi fare il check in un pomeriggio? Puoi fare il check in un pomeriggio? Non voglio perdere il mio amore per le macchine. Non voglio perdere il mio amore per le macchine. Non dovremmo scavare a luna di notte. Non dovremmo scavare a luna di notte. Dipingerà la camera da letto. Dipingerà la camera da letto. Lo bevo sempre quando si tratta di casa mia. Lo bevo sempre quando si tratta di casa mia. Siamo solo vicepresidente. Siamo solo vicepresidente. Giocano a giochi da tavolo tutte le sere. Giocano a giochi da tavolo tutte le sere. Non era mai stato sulle montagne russe fino a quando i suoi amici non lo hanno convinto a fare un tentativo. Non era mai stato sulle montagne russe fino a quando i suoi amici non lo hanno convinto a fare un tentativo. A volte non dovrebbe. A volte non dovrebbe. Non sta giudicando ora? Non sta giudicando ora? Possono diventare apicoltori dopo quattro settimane. Possono diventare apicoltori dopo quattro settimane. Non possiamo glassare alle quindici? Non possiamo glassare alle quindici? No. Non mollare mai. Mil. No. Non mollare mai. Mil. Sono stanco di questo libro. Sono stanco di questo libro. Tua sorella è una giornalista? Tua sorella è una giornalista? Dovremmo avvertire. Dovremmo avvertire. Non sono stati bloccati prima? Non sono stati bloccati prima? Non puoi sposarti dopo due secoli? Non puoi sposarti dopo due secoli? Come puoi esserne sicuro? Come puoi esserne sicuro? Non voglio perdere così tanto per amore. Non voglio perdere così tanto per amore. Ho pescato un pesce nel lago. Ho pescato un pesce nel lago. Lo strato di base no. Lo strato di base no. I tuoi figli sono modelli. I tuoi figli sono modelli. Quali sintomi stai riscontrando? Quali sintomi stai riscontrando? Il suo figliastro erano marinai. Il suo figliastro erano marinai. Ho lavorato a lungo dopo la scuola. Ho lavorato a lungo dopo la scuola. Possiamo essere portuali in due mesi? Possiamo essere portuali in due mesi? Puoi darmi indicazioni per il distributore di benzina più vicino? Puoi darmi indicazioni per il distributore di benzina più vicino? Non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Sono tornato a casa alle venti. Sono tornato a casa alle venti. Non dovrebbe tenere? Non dovrebbe tenere? Traduttore all'alba. Traduttore all'alba. Il fattore che determina il successo è il duro lavoro. Il fattore che determina il successo è il duro lavoro. Pagherò? Pagherò? Quel soldato tre settimane fa. Quel soldato tre settimane fa. I colori sono strani. I colori sono strani. È comune. È comune. Tonsilla. Tonsilla. A volte no. A volte no. Beve al tramonto. Beve al tramonto. Qualcun altro morirà tra 13 minuti. A meno che non lo trovi prima io. Qualcun altro morirà tra 13 minuti. A meno che non lo trovi prima io. Scaricamento. Scaricamento. Il nostro patrigno era un commesso. Il nostro patrigno era un commesso. Affinché l'insegnante possa calcolare il tuo voto finale. Deve superare gli esami. Affinché l'insegnante possa calcolare il tuo voto finale. Deve superare gli esami. Quanto costa un chilo di gamberetti. Quanto costa un chilo di gamberetti. Potrebbero essere cacciatori di teste. Potrebbero essere cacciatori di teste. Dopo quattro minuti dovrebbero essere indossati. Dopo quattro minuti dovrebbero essere indossati. Non potevano essere bagnini l'anno scorso. Non potevano essere bagnini l'anno scorso. Non dobbiamo guidare all'alba. Non dobbiamo guidare all'alba. Vado al parco acquatico. Vado al parco acquatico. Incontrerò i miei amici per un caffè domani pomeriggio. Non dovremmo andare dal dermatologo più tardi la mattina. Non dovremmo andare dal dermatologo più tardi la mattina. Il nostro fratellastro è un fotografo. Il nostro fratellastro è un fotografo. Agenti immobiliari. Agenti immobiliari. È andato al mercato a comprare del cibo. È andato al mercato a comprare del cibo. Non bacio. Non bacio. Vado a scuola tutti i giorni. Vado a scuola tutti i giorni. Sarà un controllore del traffico aereo? Sarà un controllore del traffico aereo? L'anno scorso per lamentarsi. L'anno scorso per lamentarsi. Lo fanno spesso. Lo fanno spesso. Non voglio andare a casa. Non voglio andare a casa. Puoi fornire maggiori dettagli su questo progetto. Puoi fornire maggiori dettagli su questo progetto. Devo restituire dei libri. Devo restituire dei libri. Possiamo metterci in forma? Possiamo metterci in forma? Dovrebbe sempre tornare. Dovrebbe sempre tornare. Possono sparare normalmente. Possono sparare normalmente. Non possono essere infermiere più tardi? Non possono essere infermiere più tardi? Non dovrebbe esistere. Non dovrebbe esistere. Qual è l'orario di arrivo del tuo volo? Qual è l'orario di arrivo del tuo volo? Vorrei che lo facesse. Vorrei che lo facesse. Imparare l'inglese può essere eccitante. Imparare l'inglese può essere eccitante. È probabile che mi piacciano le persone oneste e sincere. È probabile che mi piacciano le persone oneste e sincere. La sera imparerà una nuova lingua. La sera imparerà una lingua. Suo cognato era un assistente. Suo cognato era un assistente. Aveva sempre desiderato visitare Parigi. E alla fine lo fece. Aveva sempre desiderato visitare Parigi. E alla fine lo fece. Non potrei aggiungere? Non potrei aggiungere? Resta qui con noi nella piccola città. Resta qui con noi nella piccola città. Dovremmo saperlo. Dovremmo saperlo. La mia collega è la hostess. La mia collega e la hostess. Spingendo dieci anni. Spingendo dieci anni. Non possiamo essere linguisti per due settimane? Non possiamo essere linguisti per due settimane? Allora potrebbe apparire. Allora potrebbe apparire. Spingendo dieci anni. Spingendo dieci anni. Spingendo in liquido. Spingendo ci anni che invece hanno destinato davveroессO Pingendo Palm Centro. Sp la via Sur. Spingendo… Spingendo.